Questo evento speciale dedicato alla solidarietà è organizzato in collaborazione con la manifestazione Lungo il Tevere Roma dalla Cicogna Frettorosa Onlus. Ho qui accanto a me Venanzio Marsiri, il patron di Lungo il Tevere Roma, a cui voglio fare i complimenti per l'organizzazione di questa manifestazione estiva tra le più importanti di Roma e ringraziarlo per aver dato voce e spazio ad una Onlus così importante come la Cicogna Frettorosa, di cui tra poco avremo anche degli ospiti sul palco. Buonasera a tutti, io farò rapidissimo perché dovremmo iniziare il torneo, fare le squadre e mi devo occupare della parte tecnica. Intanto ringrazio tutti gli ospiti che tu poi elencherai con i nomi, grazie a tutti di essere venuti, grazie a padre Paolo che è qui con noi e ci supporta sempre. Grazie innanzitutto, un applauso a tutti i bambini, alla Cicogna Frettorosa che è ospite questa sera e che adesso ci divertiamo bambini col torneo. Qua facciamo la premiazione delle squadre e per la parte del torneo adesso ci mettiamo qui e piano piano facciamo le squadre. Intanto allenatevi e poi vi consegniamo i bigliardini per fare le prime partite. Tu vai avanti tranquillamente, presenta tutti, così ci sono il primario del Fatebene Fratelli, i due presidenti, il presidente onorario e il presidente attuale, la Cicogna Frettorosa. Dico solo una cosa, ma è una nota, una parentesi, poi lo dirai magari tu più volte. Per chi vuole, per chi vuole del pubblico che sta camminando, per chi vuole, qui c'è le due nostre umili ma necessarie cassette per la raccolta fondi del torneo. Adesso io mi scendo giù e cominciamo con i bambini a fare le squadre. Ok, dai, forza, un applausone per i bambini. Allora, quella di questa sera, diciamo che è una specie di inaugurazione, un primo passo per l'associazione, per la ONLUS, la Cicogna Frettolosa. Un primo passo ci auguriamo di una lunga stagione di eventi e di collaborazioni finalizzate al reperimento di fondi per aiutare tutte le iniziative della Cicogna Frettolosa. E questa sera, ovviamente una gara di solidarietà molto bella che unisce l'utile al dilettevole, perché mentre raccoglieremo dei fondi noi giocheremo dei tornei, una gara di biliardino. E per giocare insieme a noi sono arrivati, sono già con noi molti degli attori, dei protagonisti, delle più belle fiction italiane, di alcuni dei migliori prodotti televisivi. Io li vorrei salutare e ringraziare con un applauso Matteo Branciamore, Marco Pelardi, Gabriele Rossi, Federico Galante, Riccardo Milani, Chiara Milani, alcuni devono ancora arrivare, e Niccolò Semmi. Adesso, prima di cominciare però con i giochi, io volevo invitare a salire un attimo sul palco Leonardo, perché avevamo delle domande da fare. C'è qualcuno di voi esperto di biliardino? Perché qui ci sono delle domande importanti. Rosi, allora Leonardo, le tue domande. Allora, ma le girelle valgono? Le girelle valgono? Sì, ma se sei la valgo, se sei la valgo. E quanto vale se la pallina va nella porta? Se arriva a sei, chi arriva prima a sei? Bene, Leonardo, soddisfatto? Eliminazione diretta, eh? Eliminazione diretta, quindi. E' pronti per fare le squadre. Allora, facciamo gli affinamenti con i ragazzi. Allora, io ho già una distribuzione. Allora, loro sono. Allora, io ho già una distribuzione.